Ciao a tutti, sono Alex Barberis. Anche quest'anno sarò presente alla sesta edizione di 100% batteristi, organizzata dall'amico ormai da sei anni appunto, Alessandro Spaziani, presso la città di Sora, in provincia di Prosinòle. Quest'anno sarò presente tra tutti voi batteristi che partecipate, spero che siate sempre di più, ogni anno la manifestazione è sempre più frequentata e quindi per suonare insieme tra i 100 batteristi e tanti brani musicali divertenti. Sarò presente anche in prima serata con il trio Mediterra, composto da me alla Percussion Drums, ossia una sorta di batteria e percussioni allo stesso momento, alla voce, canto armonico, basso acustico, chitarra soprano, Mauro Tiberi e alle tassiere, sintetizzatore Gianluca Baccuoli. Un trio che propone una sorta di warm music molto intuitiva e ricercata. Bene, questo accadrà giovedì 6 luglio, ripeto, presso la città di Sora e niente, durante la giornata ci saranno tanti stand musicali dove tanti altri amici batteristi e percussionisti si esibiranno nelle loro performance. Ci saranno strumenti musicali da provare, da ascoltare e quindi una vera e propria festa musicale. Che dirvi? Partecipate, perché comunque è un modo per stare insieme veramente genuino, perché Alessandro Spaziani sin dalla prima edizione ha mantenuto questa genuinità del 100% batteristi e non può che fare bene a tutti, perché è veramente una sinergia unica, abbastanza rara, si direi. Quindi, vi aspetto giovedì 6 luglio a Sora, dal primo pomeriggio in poi, ci incontriamo, suoniamo insieme, ci divertiamo. Questa è la cosa più importante. Un abbraccio a tutti e a giovedì 6 luglio. Ciao! Grazie a tutti!